Resta aperto il cimitero per il primo di novembre e anche per il due di novembre, salvo ulteriori peggioramenti climatici. Lo ha annunciato l'assessore alla viabilità Giuseppe Tuminelli. Pochi cittadini che oggi si sono ricatti al Camposanto e comunque pare che per domani le condizioni meteo dovrebbero migliorare. Per quest'oggi il cimitero rimarrà aperto. Abbiamo verificato questa mattina le condizioni meteo che rispetto al collettino della protezione civile regionale davano posizioni meteo avverse sia per la pioggia copiosa che effettivamente c'è stata nelle prime ore della giornata, sia per quanto riguarda situazioni idrogeologiche avverse. Pertanto abbiamo verificato di ora in ora l'andamento delle piogge e non abbiamo comunque verificato che non consistevano le condizioni per la chiusura del cimitero. Pertanto cimitero per oggi rimarrà aperto. Per quanto riguarda domani dalle condizioni meteo non dovrebbero esserci situazioni particolari, anzi dovrebbe essere prevista una situazione di poca nuvolo stra, almeno per quanto riguarda la prima parte della giornata. Ma comunque siamo in attesa di ricevere per le ore 6 come ogni giorno il collettino della protezione civile regionale.